Joe Ragland e David Logan, il tandem della vittoria su Cantù. I due americani con status comunitario figurano nel quintetto ideale della Serie A per l'ultimo weekend, che ha permesso a Lascandone di consolidare il terzo posto, difeso dagli attacchi di Sassari e Reggio Emilia, dopo lo stop casalingo di Trento con il Banco di Sardegna. Da quest'oggi Avellino ragiona in ottica Vanoli Cremona. Sabato sera alle 20.30 il roster di coach Stefano Sacripanti, che resterà privo di Kirillofesenco, affronterà il team Lombardo, caduto nuovamente all'ultimo posto dopo il flop improvviso rimediato tra le mura amiche nel derby con la Leonissa Brescia. Per i lupi quindi sarà sfida contro chi ha bisogno di punti vitali per rilanciarsi nella corsa salvezza che Cremona aveva riaperto totalmente a Pesaro sette giorni prima. Proprio all'Adriatic Arena sarà trasferta per la Juve Caserta, che a tanti limiti di roster aggiunge l'infortunio di Daniele Cinciarini. A seguito del fastidio accusato nei minuti finali di Pastareggia a Fiat Torino, il giocatore Lombardo si è sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Cinciarini resterà a riposo fino a venerdì, ovvero alla vigilia di Pesaro Caserta, giorno in cui le sue condizioni fisiche saranno rivalutate dallo SAF medico.